È stato l'uomo più importante della mia vita a livello sportivo e anche come persona. Io lo amo infinitamente, eternamente e mi ha insegnato tanto grazie a lui. Ho giocato a calcio. Diego era qua insieme a noi la scorsa volta e quindi ovviamente un ricordo, un pensiero va anche a lui, va a lui che per quello che stiamo facendo oggi è stato il dio di questo sport, quindi siamo felici che abbiamo anche la sua di benedizione per fare questa partita, sappiamo quanto ci teneva e quindi sicuramente sarò orgoglioso di quello che abbiamo fatto oggi. Il ricordo più bello che ho è che è stato il primo a convocarmi nazionale, quindi per me lui essendo il ministro della nazionale argentina è stato il primo a chiamarmi a sordire in nazionale, mi ha fatto entrare per mesi, quindi per me più bel ricordo di quello non ci può stare. Poi ha giocato anche con mio papà, quindi è un po' emozionante questa giornata, questo maggio, io sono contento di stare qua. Io sono stato pochi giorni fa in Argentina, quindi il mio messaggio l'ho già portato, oggi ci sarà una manifestazione molto bella, mi hanno detto, un omaggio a Diego. Io non ho avuto la fortuna di giocarci contro, però io ero tifoso del Napoli, poi sono cresciuto nell'epoca in cui c'era Maradona, il Napoli che vinceva, vinceva in campionato, vinceva alla Coppa, era comunque una squadra che aveva in Maradona il suo principale artefice. Ricordo, è immortale Diego. Molto, Diego è la persona che a lo mejor ma sta innamorato del fútbol, jugar anche a Sevilla, con il numero 10 è incredibile, è un orgoglio di essere qui. E che sia felice da dove sia e che facciamo il suo sogno. Lo amo per sempre. Ah, bene, sì, ovviamente, sono molto emocionata di essere qui, molto grazie di tutta la gente che ha fatto questo evento e sempre che gli faccio un omegravo, vorrei essere parte. Il Diego è stato più grande che ha avuto Argentina a lo largo di sua storia come futbolista, credo che è stata una persona che ci ha dato moltissime emozioni, ha ottenuto la gloria máxima e questo tutti gli argentini lo ricordiamo per sempre. Allora, oggi mi auguro di poter essere almeno qui in questo partito che si sta rindendo un homenaggio a sua figura. Ci sono tanti, tanti bellissimi ricordi che emozionano. Mi dispiace perché lui non c'è, ma sempre sarà nel nostro cuore. Quella che l'ha fatto all'Inglese, quel gol là è stato indimenticabile per tutti quanti e quindi sempre sarà con noi. Beh, Diego penso ce lo ricordiamo tutti per il personaggio che è stato, un personaggio fantastico per quello che è espresso nel calcio. Forse nessuno più riuscirà a fare quello che ha fatto Diego. Il mio ricordo, grazie a lui, sono venuto a Napoli e grazie a lui abbiamo cominciato a giocare a calcio. Quindi sono orgoglioso che ho messo la maglia napoletana. Quindi Diego rimane per sempre in cuore nostro. Ero piccolino quando giocava a lui, però penso se non è il migliore, tra i migliori della storia del calcio mondiale. Ho avuto anche la fortuna poi di giocarci insieme in una partita di beneficenza a Cervia tanti anni fa. Quindi è un grande, lo ricordiamo e questa partita è anche per lui. Unico, unico in tutto e quindi per secoli difficilmente parleremo di altri che hanno fatto quello che ha fatto lui. Non solo nel campo, ma anche quello che ha lasciato con i pro e i contro. Perché tante cose magari qualcuno le ha condivise dalle sue scelte, ma in campo poi è stato un leader, qualcuno che ha lasciato il segno. Ha lasciato comunque un qualcosa di speciale a tutti noi, a tutti gli amanti del calcio. Quindi credo che sia una figura indelebile per sempre, un'icona. Sono stato un privilegiato, poter giocare, poter essere della partita, per la pace soprattutto, per papà. Bello, emozionante, sono riuscito a non piangere. Grazie.